Sì, diciamo che nelle ultime 3-4 annate il becciaio ha perso oltre dei 65-90 metri di lunghezza, la punta era tratta di 65-90 metri di lunghezza, per una perdita di spessore, quindi non di lunghezza perché c'era proprio di spessore, intorno a 30 metri, un rato di circa 6 metri all'anno di spessore per un punto di entorno ai 7-1 minuti, non ho deciso di stare, sono come chiusi a lavorare per il settore del suo, a un'ultima, quanti è una vettura da un'altra parte della spessore, quindi non è più importante, 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 non è più importante.